Ecco il nostro pilota Rava, sempre più semillante all'apo, l'ha defilato e nascosto un po' timidone il calamaro Vecchio che diciamo, eccolo qua, guarda che microcamera che ho, aspetta qua, mi lascio da fuori Vabbè, primi due piloti, anche tecnici a guarda Roberto, andiamo al pilottone Roberto della Colugno che usava il Sblendez, detto il bicchia, sono giù con la stampa, vediamo quello fastidio Oh, ci siamo il ballone Ok, non ci siamo messi, ok Andiamo a farmi, è pieno, è pieno, è pieno Ok, non ci siamo messi, è pieno No, no, no. Andiamo a port intro Mus ù coanna innoware tu duo Ed voce, manistici menjadi altri ambienti, è pieno Ma c'è un naso buonne bambini la prima carrella e Tino Maran il nostro playground ideale di questo vogliamo volare in questo caso per fare la ricerca di Paolo andiamo attraverso attraverso Panacca la vediamo quel colone che è bellissima un basso un basso direttamente a un'idea ... 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 ne vediamo innanzitutto non lo potrebbe uscire ... ... ... ... ... ... ... ... ... non è corretto tornare un po' scuola un po' andiamo qua scuola un po' e non ci sono le due porta attuale 2.670 no non c'è qualcuno di vediamo il paolo non c'è se ponia una cosa non c'è non c'è da non c'è non c'è d'accord Grazie a tutti 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 Grazie a tutti